Noi i tamponi li stiamo facendo come servizio prevenzione, ma è chiaro che non sono sufficienti. Io sono uscito oggi dicendo che per esempio alla Cavarzerani bisogna ipotizzare una zona rossa. Cioè non soltanto dare la quarantena, ma impedire che la quarantena non possa venire rispettata. Zona rossa la caserma Cavarzerani di Udine. Così il governatore Fedriga, dopo l'accertamento di tre migranti positivi al Covid, tra i 32 identificati all'Isert e poi bloccati a Palmanova la settimana scorsa a bordo di un camper. Quanto al Carso Triestino, dove ieri sono arrivati 70 migranti, servirà una situazione analoga a quella di Udine per evitare fuoriuscite dalla quarantena? Vedi il caso Campo Scout di Campo Sacro? Intanto teniamo quello che c'è e teniamolo controllato. Seconda cosa, penso che gli arrivi, io l'ho fatto più volte presente al governo, ormai siano diventati ingestibili nel Friulenza Giulia, insopportabili, devo dire altrettanto, e quindi controllino i confini, li spostino da un'altra parte, facciano quello che vogliono, ma il Friulenza Giulia non è disposto ad accogliere altri migranti irregolari. Intanto questa mattina tre minori afghani sono usciti dallo spazio previsto per la quarantena e sono stati poi rintracciati e denunciati dalla polizia, purtroppo verbali all'ordine del giorno, per le forze dell'ordine. Una situazione questa che fa letteralmente imbufalire il presidente della regione dopo lo sforzo fatto durante il picco epidemico. Abbiamo difficoltà anche da quel punto di vista, non c'è dubbio, per quello dico, per noi è insostenibile una situazione di questo tipo, non l'accetto più, sia chiaro. Si può pensare alle caserme dismesse? No, 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 io non penso a nulla in Friulenza Giulia, io proprio non ipotizzo nulla, se qualcuno pensa che il Friulenza Giulia possa essere utilizzato come luogo di quarantena per gli immigrati irregolari si è sbagliato di grosso. Noi abbiamo un servizio, oltretutto un servizio sanitario, estremamente sotto stress, perché stiamo facendo i tracciamenti per bloccare i focolai, stiamo cercando di dare le risposte sanitarie ai nostri cittadini, qualcuno non si sogni di ipotizzare che qui arrivino tutti i immigrati irregolari, che dobbiamo seguire tutta la parte sanitaria, perché lo facciamo con le nostre risorse e contro la nostra volontà, perché purtroppo non abbiamo noi la competenza per il controllo dei confini e bloccare gli immigrati irregolari, non è che qualcuno non controlla e noi ne paghiamo le conseguenze, così non funziona.